Solorino ciclismo, pericolo scampato, cavallo in bizzarrito e rompe all'arrivo creando panico. Una gara di ciclismo con 380 partecipanti ha avuto un finale trepidante in quanto durante le fasi finali del Memorial Salvatore Castiglia un cavallo lanciato al galoppo ha fatto eruzione nel rettilineo finale proprio in mezzo ai partecipanti. I garabinieri della stazione di Solorino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa tre uomini rispettivamente di 28, 41 e 69 anni. Lo scorso 25 aprile durante le fasi finali di una gara ciclistica che si è tenuta nel comune di Solorino tra lo stupore dei tanti ciclisti in gara e del folto pubblico presente il cavallo Zorro condotto da un 28enne del luogo è improvvisamente apparso da una delle vie laterali occupando il percorso di gara. Il cavallo era scortato da un motociclo con a bordo due uomini di 41 e 69 anni e quest'ultimo proprietario del cavallo. Il fantino lanciato al galoppo il cavallo verso l'arrivo per circa 500 metri circa ha dovuto faticare non poco nel cercare di distanziarsi dai ciclisti in gara che nel frattempo giungevano in volata mettendo così a rischio l'incolumità degli atleti. Tagliato il traguardo posto in piazza Procicito i tre uomini si sono allontanati e pensando di averla fatta franca si sono recati presso le rispettive abitazioni. I garabini di Solorino li hanno identificati e raggiunti in casa denunciandoli dall'autorità giudiziaria Aretusea. Il separietto offerto dai tre uomini non è stato affatto gradito né dagli spettatori che li hanno fischiati sonoramente né dagli utenti dei social dove sono reperibili più vidi dall'eruzione del cavallo al percorso di gara tutti accompagnati da commenti tutt'altro che lusinghieri.